Ah sì, è proprio bello questo video e vi è piaciuto un sacco e per questo ho deciso di farmi un secondo behind the scenes Bene ragazzi, siete pronti? Ecco qua quello che amo fare i miei video crash ragazzi Abbiamo i cannelloni la coca cola riempita con acqua e tempera ovviamente all'acqua che non sporca, non rovina niente poi abbiamo il nostro microfono professionale ragazzi noci e gallette di riso buonissime il nostro cavalletto non può mancare ma andiamo al dunque, andiamo a vedere come si fanno Benissimo ragazzi, allora cosa scegliamo? questo, provo io le gallette proviamo le gallette posizioniamo le nostre gallette in posizione strategica proprio qua ne mettiamo tre e quattro questa non la uso perché è rovinata non l'avrei mai usata perché deve essere perfetto il video ricordo ragazzi che questa è tutta roba scaduta e non utilizzata quindi non usate e comprate roba che non è scaduta perché sarebbe un vero peccato ok ragazzi, vi faccio vedere la posizione perfetta ok ok peccato che non abbiamo un po' di ombra ma a quest'ora purtroppo non ne abbiamo prendiamo il nostro microfono proprio il nostro amico pelosissimo e andiamo a metterlo qui di fronte alle nostre gallette eccoci qua siamo pronti ragazzi schiacciamo ecco qua il risultato ragazzi si sono appiattite ma sono ancora intere wow fighissimo che crash strepitoso ragazzi incredibile allora ragazzi vi è piaciuto il mio dietro le scene il behind the scene di crash experiment ragazzi ci vediamo al prossimo video mettete un fantastico like e seguite il canale per ricevere ogni notifica bye